E' in corso una protesta davanti la sede IMSS di Cosenza dove alcuni manifestanti sono saliti sulla tettoia posta sopra il portone di ingresso. Si tratta di lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga e che attendono di ricevere l'indennità che spetta loro relativa ad alcuni mesi del 2013 oltre a quella del 2014. Sperano di poter parlare con il presidente Oliverio affinché possa trovare presto una soluzione e soprattutto chiedono un lavoro. Noi chiediamo che non ci sia più assistenzialismo perché noi assistenzialismo non ne vogliamo. Noi vogliamo lavoro, mobilità in deroga, questo qua noi non lo chiediamo più. Noi vogliamo quello che ci è dovuto fino ad oggi tipo le mensilità arretrate però innanzitutto noi vogliamo che si sblocchi il lavoro per ognuno di noi perché ognuno di noi da quando ci hanno tolto il lavoro ci hanno tolto la dignità. Noi adesso oggi chiediamo innanzitutto un confronto con qualcuno dei politici che fino ad oggi è stato assente. Chi è adesso alla regione Calabria? Il presidente Oliverio. Noi chiediamo un incontro con il presidente Oliverio affinché siano questi gli argomenti oggi da discutere.